Musica Ciao a tutti ragazzi, qua per vostra sfortuna c'è Smurri e benvenuti in questo... Primo? Boh, si spera, primo episodio della nuova serie che ho intenzione di creare sul mio canale di Penumbra Uh, Penumbra, uh, che brutta storia Che cos'è sto gioco intanto, probabilmente vi state chiedendo Beh, Penumbra, come potete vedere, è un giochino abbastanza simile ad Amnesia Sono nella stessa casa sviluppatrice Un po' più vecchiotto, ma non immaginatevi chissà quanto più vecchiotto, ecco Eh, beh, come potete vedere, diciamo, lo stile... Urrrr, lo stile è quello, il... Lo scopo è quello, ossia farmi scagazzare in mano Come potete sentire, ci sono delle voci E in questa serie, se voi vorrete che io continui questa serie Io, appunto, comprerò il gioco su Steam Perfetto, una donna sta venendo molestata E compro il gioco su Steam E niente, ci farò un bel let's play sul mio canale Visto che Amnesia me lo stanno facendo tutti Eh, almeno faccio Penumbra Ok, la gente viene tagliata a pezzetti E quindi io direi subito di non indugiare E provare, anzi, continuare Iniziare Questa demo su Penumbra Devo dire la verità, la prima parte l'ho già fatta Perché avevo già provato a registrarla Questa prima, diciamo, parte Poi mi sono accorto che non c'era Non stavo registrando l'audio Perfetto Allora, quindi apriamo un attimo quei cassettoni Una nota Tra la luce e l'ombra c'è un mondo intero That world is necessarily our own Perfetto Quel mondo è il nostro Chiudiamo Chiudete Uh A glow stick Oh, perfetto, utilissimo Ok, qui sotto cosa c'è? Niente Cosa sei tu? Un coin Tu cosa sei? Qua non c'è niente Qui mi sa che non c'è niente neanche Eh, ok, cioè Vi faccio vedere Cosa cazzo dovevo fare qui Ci sono stato tre ore prima Ok, metto qui Giro e Sminchio il soldo Perfetto Le meccaniche che potete vedere sono quelle E vi assicuro, ragazzi, che E Fa spaventare Forse anche più di amnesia Veramente è qualcosa di allucinante Questo gioco Comunque dai Facciamo un po' Un piccolo Inizio di sto gioco Ecco Non si può aprire la porta No, via dal cazzo Cazzo Olè Perfetto Io direi che è anche arrivato il momento Di mettere sta torcia Oh cazzo Ovviamente non la giocherò mai In In Di sera Perché C'è sti cazzo Io neanche la volevo fare sta serie Talmente mi Sono un caga sotto Neanche la volevo fare Poi però ho detto dai Eh, siccome La serie diciamo sulle demo Non mi piace Facciamo almeno questa Cazzo è qua Oh cristo Che cazzo è Ma dai Che cazzo Ma 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 Perfetto Madonna Qua mi spavento sempre Perché se l'ho fatto già sto pezzo Mi spavento sempre Salvation Dio mio Dio mio Dio mio Mi sto facendo La cacca Di sopra Ok Prendiamoci una bibita Oh yeah Che cos'è questa Ma no Soda Cazzo io volevo Coca Cola Brostor Da macchinetta Puttana Vabbè Continuiamo Oddio Oddio Voci No Ok Ho bastato un po' la tapparella Perché se no Non vedo veramente Un cazzo Batterie Ok Non andrò avanti Perché già so che qui Devo fare così Ok ho rotto tutto Perfetto Allora mettiamo Queste travi Qua ci sono stato Tre ore Per capire Cosa cazzo Dovessi fare No 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 L'ho messa male Cacchio Ok E ora Tu trave A me Piano 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 Cioè voi immaginatevi Se in questo momento Entrasse mio padre Tipo all'improvviso Io A parte che butterei Tipo Le parolacce Tipo più Più assurde Oh yeah I am the The magician Of penumbria Allora qua Non si può andare Perché c'è il gas Qua invece si E cozzera Oddio 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 È chiusa Fortunatamente Ok Ketchup Non so perché L'ho fatto Bu Io l'ho fatto Allora Qua Anche qui Ci sono stato Tre ore Per capire Che dovevo Mettere Della coca cola Per fermare Qua dei maiali A Bu La grafica Non è tanto brutta Dai È un po' più Vedete qua Ho bloccato Questa cosa È un po' Peggiore Di quella di amnesia Però dai Ci sta Oddio 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 Dio mio Ecco qua Non ci sono arrivato Dio mio Nooo Che cozzo Comunque ha detto la signora Che Un Un lavoratore Contento E un lavoratore Efficiente Solo i lavoratori Efficienti Saranno tipo Pagati Non so il genere Sangue Un uomo morto Ciao Bel tipo Cazzo Ho sentito Un help me Che cacchio è Eh Darren Gray Ah Ciao Darren Gray Mi sa che sei tipo Morto Il paziente ha riportato Una disantrazione Una disantrazione Infezione Maronna ragazzi Mi sto già cagando addosso Ok 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 Oddio Porca puttana Vaffanculo Maronna 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 Che caccio è Che cazzo Mamma mia Mi sono spaventato Oddio 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 Che serie Ragazzi Che serie Si prospetta Se voi deciderete Che serie Si prospetterà Ragazzi Che serie Non bevete Ragazzi È pericoloso Sto scherzando Bevete però Non guidate Vabbè Vaffanculo Continuiamo Delle batterie Flare Cassetta Non c'è Cazzo È sta cosa Scusa Madonna Io so che appena resto qua Questo mi incula Cos'è sta cosa Ah forse Ah lol Devo mettere la cassetta Gesù Dio Gesù Dio Gesù Dio Mi sto cagando Addosso Ragazzi Che cazzo Che cazzo Che cazzo Se l'hai mangiato Buon appetito Porca puttana Buon appetito It's locked Sangue Madonna Mi sto cagando Veramente di sopra Ragazzi Madonna 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 È chiusa Porca troia Ah ok Devo trovare qualcosa Per aprire Mamma Mi sto cagando Ast X muri Che capisce Che cazzo Faccio Porca puttana Che cazzo Faccio Cazzo Cazzo Oddio Si è aperto Mi sto cagando Di sopra Oddio Oddio Mi devo nascondere Spegni 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 Santo Dio Santo Dio Che cazzo è Oddio 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 Mi sto cagando Addosso Mi sto cagando Addosso Silenzio 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 Cazzo Cazzo Sta venendo Cazzo 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 È qua Oddio Oddio Che brutto Ah Ammazza Oddio Che sei brutto Oddio Che sei brutto Porca puttana Porca puttana Porca puttana Guarda che è brutto Mi ha visto Mi ha visto Non mi ha visto Non mi ha visto Se n'è andato Se n'è andato Non se n'è andato Se n'è andato Non se n'è andato Mi sto fermo Che faccio Mi alzo Non mi alzo Oddio Cazzo Cazzo Te ne sei andato Posso uscire Posso continuare il gameplay Oddio No io non esco Suka C'è ancora rumore Porca troia Porca troia Sei andato via Non si è andato via Si è andato via Non si è andato via Si è andato via Non si è andato via Che cazzo faccio Vabbè oh Sti gran cazzo Io mi alzo Oddio 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 Non è andato via Non è andato via Cazzo 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 Minchia Rieccolo Rieccolo Che cazzo sei Che cazzo sei Fermo, 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 fermo Fermo, 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 fermo Non ti muovere, Xmurri Non ti muovere Che sta facendo? Dove va? Perché? Jesus Christ Se ne sei andato? Madonna, Madonna, Madonna Madonna, Madonna, Madonna Cosa c'è? Cosa abbiamo qua? Qualcuno, qualcosa mi possa servire? Posso alzarmi? Madonna, 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 Madonna Se ne è andato? Ho capito che sei chiuso Cazzozzo Minchia, se è ancora qua, mi cago addosso Se è ancora qua Ha aperto Porca troia, che paura Porca troia, che paura Mi sto cagando di sopra Mi sto caga Ok, allora, facciamo una cosa Questo prendi Come si gira sto coso, porca Non si gira più Dio Madonna, Madonna Perché? Perché ho deciso di fare sta serie? Dovevo fare il cagasotto Ah, ok, guarda, così si gira Ok, piano Piano, 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 piano Piano, 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 piano Girati, fastarda Come ti giro? Madonna Girati, puttana Non si gira Non si vuole girare Girati Vaffanculo, vabbè E vediamo se clicco di nuovo qui Spero vi siate spaventati Comunque, ciao a tutti ragazzi Sono sempre io, XMurri Ovviamente, non sono un altro Sono sempre io Tranquilli E volevo sapere a questo punto Come ho detto in inizio il video Ma ve lo ricordo anche in questo momento Perché probabilmente Durante il video vi avrò scioccati Con le mie minchiate Vi sarete un po' rincoglioniti Volevo chiedervi Chiedervi? Chiedervi, sì Volevo chiedervi se Volevate che io continuassi questa serie O se io comprasti il gioco su Steam E ci facessi appunto Un let's play sopra Come potete vedere È un bel gioco Secondo me È molto simile al Misia Però Secondo me Forse Se non tanto quanto Forse È anche leggermente più scagazzoso Comunque È comunque Un gioco che Potrebbe essere veramente interessante Vedere Come let's play sul mio canale Anche perché Non mi sembra che Qualcun altro l'abbia fatto Ecco Adesso sicuramente Non mi vedo a guardare Tutti i canali italiani Di videogiochi Però Non l'ho visto in giro Altre volte Fatemelo sapere Con un commento qua sotto E Lasciate un bel mi piace A questo video Se il video vi è piaciuto E noi ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Grazie a tutti.